Eccoci qui ragazzi di nuovo con il nostro Dark Souls Ci eravamo lasciati con l'ultimo video dove il gargoyle della campana ci aveva fatto il culo a strisce Quindi sono tornato un po' indietro per diciamo che sono rifatto il giro un po' lungo in modo tale da tornare qui E accumulare un po' di anime e ho aumentato un po' la destrezza Destrezza perché vorrei utilizzare l'arco che mi hanno consigliato di raccattare la spada del drago E mi hanno detto che praticamente devo cecchinare la coda del drago che sta qui su All'inizio sinceramente non avevo capito perché pensavo di dover trovare una qualche parte dove poter arrivare con la coda Invece mi hanno detto di venire praticamente qui e cecchinarla Adesso però facciamo un po' di In teoria ci dovrebbero essere Ah no stava dopo Vabbè allora mi faccio i cazzi miei e rimango qua Perché io all'inizio non potevo usarlo l'arco adesso In teoria si Vediamo un attimo arco lungo ok Si non mi ha detto niente quindi posso utilizzarlo Vediamo come Come minchia faccio a mirare Maledizione Aspetta un attimo un attimo devo capire come mirare Non c'è un mirino qualche Oh cazzo Ok adesso ci rimetterò una vita Come Come cazzo Maledizione Attenzione Sì è qua voglio vedere come cazzo lo becco Attenzione Oh cristo santo Dove che ha Merda Ok non riesco più a togliere adesso il mirino Ah Momenti di panico Ok occhio Dai drago non fare Non è che questo mi viene qua a rompere il culo Ok Attenzione Grande cazzo Sì ma poi non ho capito se me la dai in automatico la spada O dovrei andare lì a prenderla Che in questo secondo caso Ah devo cambiare freccia ok Vai Figata l'arco L'arco non l'ho mai utilizzato neanche in Demon's Souls Anche perchè in Demon's Souls sostanzialmente non Non potevo utilizzarlo Forse proprio perchè non ho mai curato diciamo la destrezza se non ricordo male Andavo di lancia e E catalizzatore Facevo magie e sparavo lanciate Ma l'arco non l'ho mai utilizzato E' effettivamente una figata Certo magari è per appunto scontri alla lunga distanza e soprattutto dove il nemico non ti raggiunge quindi puoi stare tranquillo Certo ci vogliono mesi anni per ammazzare il nemico ma come dicevo anche in Demon's Souls mi ricordo che un drago Che si trovava allora praticamente in fondo a una scalinata Ci voleva diciamo un po' di agilità nel superarlo Per poi arrivarli praticamente sotto il mento Diciamo un po' come era qui E noi in teoria ci trovavamo all'entrata di quella porta che lui sovrasta E da lì sotto dovevamo Cecchinarlo con Chi con l'arco Io ho fatto con Con le varie magie E era una cosa piuttosto lunga Come penso sia anche questa a questo punto Quindi non so se taglierò Ma andrò avanti veloce Se la cosa va troppo per le lunghe Ah eccoci qui benissimo ragazzi Allora con una frecciata di quelle più grandi ci ha dato la spada del drago leggera Era ottimo allora vediamo se abbiamo fatto un affarone Così abbiamo speso del nostro tempo per questa spada che non Lascia da battaglia era ottima Comunque la devo forse Spadone ammazza draghi Questo è quello che avevo ma non posso utilizzarlo Perché è troppo pesante Spada leggera del drago Ok bene questa posso utilizzarla Grande cazzo Andrei quasi a testarla adesso Vediamo com'è Ok ho capito che mi hai dato la spada del drago L'ho già attrezzata Ok rimettiamo l'arco E testiamola su questi qui vediamo un attimo com'è La merda Eeeh Vacca troia io che andavo in giro con quella merda di roba Porca troia A saperlo prima Ecco quindi innanzitutto ringrazio Chi mi ha consigliato di andarmi a prendere questa Questa spada Eeeh Adesso niente facciamo un po' di sfacelli A questo punto maledizione 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 Cristo santo Tu guarda se io Ammazzare draghi Mostri Minchioni Vari E farmi uccidere da dei topi Che per quanto siano grandi Mi sembra un po' una stronzata Farmi ammazzare da dei maledetti Topi Fottuti topi Ehm Ok quindi adesso con questa spada Potremmo fare i culi A strisce Bene Noi ci eravamo lasciati Se non sbaglio Ah si che ci aveva Stavo dicendo l'altra volta Che ci ha fatto il culo il Il coso la della Della campana Il gargoyle della campana Ci proviamo? Li andiamo a sfasciare il culo? Andiamo ragazzi Ok questa strada Non so se Se velocizzarla O se magari Occhio Ehm Ah bello Mo' vi spacco il culo Con sta spada Porca troia Che figata Eh vabbè Se non la spacchiamo Contro i muri Perché Per raggiustare La roba Ci vuole Ehm Madonna ragazzi E' cattivissima Cristo Io che andavo in giro Con quella lancia Che ci mettevo Due settimane Ammazzare gli altri Qua Una sferzatina E magari Magari due sferzatine Se poi Fottuto bastardo Stai calmo Bella Ancora più bella Non scappate Sto qua Vi vengo incontro Ehm Mo' posso fare Lo sbruffone Attenzione Attenzione Perché qui Ci possiamo Pavoneggiare E poi moriremo In modo clamoroso Scommetto che Andrà a finire così Quindi ragazzi La Ah bello Cristo santo E' agile E' agile E' agile Ma noi siamo cazzuti Perché abbiamo la nostra Spada del drago Leggera Spada leggera Del drago Quindi immagino Che quella pesante Faccia un Un macello Della madonna Vediamo questi Che sono Sempre stati Dei fottuti Bastardi Bene ragazzi Con questa Abbiamo spaccato Cule E continueremo A farlo Oh Cristo santo Aspetta Prenditi una fiaschetta Alla salute Occhio Rimaniamo così Agili Agili e cazzuti Occhio Guarda che figlio Di puttana Ok Ma ha rotto il culo Fiaschetta 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 Capriola E gli spacchiamo Il culo Così Hai rotto il cazzo Vieni qua Vieni qua Ti faccio il culo Vieni Qua fottuto Figlio di una Cagna Maledetta Non ti curare Maledetto Ok Stavamo per fare Una fine brutta Ci siamo salvati In estremis Andiamo a ammazzare Anche quest'altro Quelli la Comunque sono Veramente dei bastardi Quelli con lo scudino Piccolo E quella Cazzo di Questi sono più Lenti Perché sarà lo scudo Che è più pesante Che non li fa Andare molto in agilità Ma quegli altri Sono veramente Dei bastardi Io sto andando Tra l'altro Con sta roba Molto leggera Perché non vorrei Appunto Appesantirmi Troppo E non so Se salvare Andare qui Al falò Per salvare Perché credo Che sia più vicino Al O Cristo Se magari Mi ricordassi Di preciso Dove sono Ok Ok Eh almeno Mi faccio anche Riparare La La accetta Che Può sempre Tornare utile Questa non penso Si possa Migliorare Quest'arma Ma Per adesso Ci va benissimo Così grande Questa spada Del drago Questa veramente Faremo Dei culi A strisce O Ok Siamo tornati Qui Bene Perfetto Andiamo un attimo A riprenderci E poi Andiamo ad affrontare Il nostro Gargoyle Che adesso Non avrà vita facile Riposiamo accanto Al falò O Io Siamo tornati Siamo tornati Siamo tornati Siamo tornati Siamo tornati Grazie a tutti